Ben tornati al 56 live, come più volte annunciato, è il momento di approfondire i temi, i motivi che hanno portato a questo sciopero generale di oggi, definito da più parti, è quasi un mantra ormai storico, perché per la prima volta tutti i dipendenti comunali erano chiamati a uno sciopero generale, ma anche per valutare, lo faremo insieme a degli ospiti, quali scenari si aprono adesso, dopo la prova di forza dei lavoratori di oggi. Lo faremo con due ospiti, ringrazio e saluto dal bentornato da Medeo Formaggi, funzione pubblica CGL di Roma e Lazio, saluto e ringrazio anche Giancarlo Cosentino, responsabile dell'RSU di Roma Capitale. Prima di vedere il servizio curato dal nostro Fabrizio Massantini sul racconto della giornata di oggi, poi avremo anche altri contributi, chiedo a voi una valutazione, insomma, in poche parole, al termine di questa giornata, qual è la sintesi? La sintesi era quella delle premesse, se pensavo al sindaco in qualche modo che ci fosse un sindacato contro i lavoratori, perché questa è una cosa che maggiormente ci ha colpito in un sindaco che viene da un'area di un partito democratico, dove le rappresentanze sono sempre il mezzo dei lavoratori, non sono mai viceversa, oggi non c'era una rappresentanza sindacale a Campidoglio, c'erano 24 mila dipendenti, quindi lui deve prendere atto che c'erano dipendenti, simbolicamente ma c'era una piazza con 10 mila dipendenti, se vogliamo rendere simbolico questo dato possiamo renderlo simbolico, ma il simbolo che volevo portare io non c'era la voce del sindacato, c'era la voce dei lavoratori che si è manifestata con interventi, con striscioni, con la presenza e ogni dipendente ha rinunciato a una quota di salario per poter guidare la propria dignità e il proprio servizio alla città di Roma, non a quella di un sindaco che probabilmente non li apprezza differentemente da quanto aveva promesso in campagna elettorale, sembra tanto lontana ma era ieri e probabilmente il primo tradimento è stato proprio rispetto a coloro che avrebbero dovuto permettere a questa città di rilanciarsi, la cosa che stiamo osservando tutti quanti i lavoratori è probabilmente mai come oggi abbiamo una zavorra che non riesce a ripartire e questa zavorra è un'amministrazione incapace di decidere. Formaggio, dalle parole di Cosentino ma anche dagli slogan scanditi in piazza, la sensazione è che sia stato uno sciopero molto indirizzato alla persona del sindaco oltre che all'attività politica dell'amministrazione in carica, perché questo? Non credo che lo sciopero sia stato indirizzato alla persona del sindaco, lo sciopero intanto c'è da segnalare era permeato da un grandissimo senso di appartenenza dei dipendenti, i dipendenti che stavano in piazza dalle maestre ai vigili urbani a chi stava nei municipi stava lì a dimostrare la propria rabbia per il fatto che non erano messi in condizione di lavorare bene e quel bene che fanno in determinate condizioni questa amministrazione la voleva mettere in discussione, è normale che poi negli slogan venga citato il nome del sindaco, oggi è a Marino, ieri poteva essere Alemanno, l'altro ieri poteva essere Veltroni, ma perché la persona che ricopre quella carica rappresenta la città? Quindi il problema era che i dipendenti volevano attenzione da chi governa questa città, attenzione che non c'è stata e oltretutto è stato anche, mi si consenta questo giudizio, offensivo il fatto che Marino è arrivato, non si è nemmeno degnato di venire all'assemblea se lui dice che ha tanto a cuore i dipendenti sarebbe bastato il gesto di un sindaco che è conseguente a quello che dice, veniva sul palco e poteva dire tranquillamente la sua, lui invece si è limitato a salutare sorridendo in maniera pure ironica e questa è una cosa che ha dato molto fastidio, non da un punto di vista puramente formale e caratteriale, ma perché i dipendenti si sono sentiti offesi, loro stavano lì, diceva giustamente Giancarlo, si sono giocati con una giornata probabilmente l'aumento che il governo Renzi ha dato, per dimostrare che loro vogliono lavorare perché loro vogliono lavorare per il bene della città, probabilmente Marino al di là del Dace che dice ogni tanto non è che ha capito bene Roma che cos'è e come si governa. Vediamolo però il racconto della giornata nel servizio curato da Fabrizio Massantino. Io sono 42 anni che sto al Comune di Roma, è la prima volta che mi capita di trovare una forza nei lavoratori uniti e compatti, quindi spero che riusciamo a fare qualcosa di buono per i bambini innanzitutto che sono i nostri utenti, sono i bambini. Al sindaco Marino vorrei semplicemente dire che non si può, non si può in questo modo, non si può come al solito cominciare dal basso, come al solito ignorare le condizioni non solo salariali ma anche del modo in cui noi lavoriamo. Vogliamo riformare la macchina capitolina? Non c'è problema, ascoltasse noi, ascoltasse chi lavora. Un bambino, un bambino, un bambino, un bambino. Per la prima volta nella storia a Roma si fermano i 24.000 dipendenti comunali, vigili urbani, educatrici scolastiche, personale amministrativo di Comune e Municipi, tutti in sciopero contro il rischio di taglia al salario accessorio, attualmente circa un quinto dello stipendio medio di un dipendente del Campidoglio, ma anche contro la decisione di Marino di fissare al 31 luglio un limite tassativo per ridefinire il contratto decentrato e le proposte di riforma della macchina amministrativa del Comune. E' lui il sindaco, il bersaglio dei manifestanti, giunti fin sotto le finestre di Palazzo Senatorio, punto di arrivo di un corteo partito intorno alle 9 di stamani dalla Bocca della Verità, nei cartelli dei circa 6.000 dipendenti che hanno malfestato in tutta la città, secondo CGL, Cisle Will, l'adesione allo sciopero dell'80%, si leggono slogan e richiami alla vicenda del salario accessorio, ma anche alle difficoltà in cui molti di loro operano tutti i giorni. I sindacati parlano di manifestazione riuscita e lanciano a Marino il guanto di sfida. Oggi è una spendita giornata, speriamo che il sindaco abbia tenuto aperte le finestre del suo studio per ascoltare le rivendicazioni dei lavoratori. I lavoratori dalla piazza viene un secco no alle proposte messe in campo fino adesso. Speriamo che il sindaco se ne faccia una ragione, da domani si possa voltare pagina e ripartire per cambiare e far funzionare realmente i servizi della capitale. Un messaggio importante e forte a un'aggiunta che non dà seguito alle ragioni del MEF, che gli impone rientrare nella gestione allegra delle partecipate, nel taglio delle consulenze, ma si fossilizza sul taglio degli stipendi di lavoratori che prendono 1.200 euro al mese. Nella piazza del Campidoglio gremita di manifestanti a un certo punto arriva a bordo della sua bicicletta il sindaco Marino. Fischi e contestazioni all'ingresso del primo cittadino nel palazzo. Non è bastata a rassenenare gli animi. La lettera spedita ieri a sindacati e dipendenti, nella quale Marino assicurava che i salari non saranno toccati e che col Ministero delle Finanze si sta ridiscutendo la modalità di assegnazione della parte accessoria. I dipendenti capitalini ci hanno chiesto con forza di fare questo sciopero. Il sindacato è soltanto il mezzo dei lavoratori per far capire a Marino che l'organizzazione di questa città, di servizi, si fa con loro, non senza di loro. Ridefinire una macchina pubblica capace di aumentare e migliorare i servizi utilizzando al meglio le risorse umane. Quindi mi auguro che lui si faccia interprete di questa richiesta anziché sfidare i lavoratori e il sindacato. Dalle voci dei lavoratori in piazza c'era un elemento che era il più richiamato, quello del taglio del salario accessorio, che poi è alla base dell'inizio di questo braccio di ferro. C'è un problema che con il bilancio approvato dall'Aggiunta, quel salario accessorio almeno per il 2014 è stato interamente confermato dal Campidoglio. Perché questo messaggio non ha in qualche modo cambiato anche la vostra piattaforma? Perché il discorso del salario accessorio è rimasto l'asse portante di questa mobilitazione? Quest'oltre parto da formaggi. Perché intanto una permessa. Quello che dice il sindaco o il vice sindaco, come ieri ha fatto in Consiglio Comunale, straordinario convocato apposta sul personale, cioè che c'è garanzia dei circa 70 milioni del salario accessorio, è una cosa detta e rimasta solo e esclusivamente sulla carta. Noi non abbiamo contezza e quando dico contezza vuol dire che non c'è nessuna formale assunzione di responsabilità dell'ente dove si dice che i 70 milioni sono disponibili per la contrattazione. Non c'è l'approvazione dell'Aggiunta? Assolutamente no. Perché questo è stato detto. E l'Aggiunta ha deciso di metterci, però per le regole della contrattazione, per avere l'esigibilità di quei soldi, noi abbiamo bisogno che il capo del Dipartimento del Personale prende un pezzo di carta, scrive e sottoscrive che i 72 milioni fanno parte del fondo per la contrattazione. Noi questo oggi non ce l'abbiamo, nonostante siano almeno quattro delegazioni trattanti, il che sta a significare un mese di incontri, dove noi pretendiamo questo, perché solo così noi avremo la certezza che i 72 milioni ci stanno. Poi però loro dicono, l'ho detto già un'altra volta quando mi ha posto su per giù la stessa domanda, loro non garantiscono nemmeno altri 37 milioni, che sono frutto di somme del fondo non spese. Questa roba qua per noi è essenziale, perché quei soldi renderanno... Ci faccia capire bene, si tratta di 37 milioni... Allora, le faccio un esempio molto semplice. Il fondo è di circa 159 milioni di euro, suddiviso fra risorse stabili che sono legate agli stipendi, risorse variabili che sono legati alle indennità. Questa cifra dal 2009 al 2013 ha portato a dei risparmi mediamente circa 7 milioni di euro l'anno. Risparmi che si sono determinati non sulle variabili, ma sulle stabili. Questi soldi siamo stati in grado di averne contezza, quindi dell'entità, solo grazie al lavoro che abbiamo fatto, perché l'amministrazione fino all'ultima delegazione trattante ha provato a non dire che c'erano, perché li vuole utilizzare per ripaneare eventualmente una parte del rientro che gli imporrà il governo, utilizzando non quello che è stato erroneamente utilizzato sul bilancio, ma utilizzando soldi che dovranno essere destinati ai lavoratori e non sono stati spesi. Quindi, quello che noi abbiamo chiesto all'amministrazione, avere contezza di quello che è realmente la situazione del fondo di contrattazione per il personale, tra quello che loro hanno detto che hanno stanziato e quello che è avanzato. E su questo, siccome non ci abbiamo certezze, noi abbiamo continuato a mantenere le nostre posizioni che hanno portato anche allo sciopero. Però ripeto, lo sciopero è questo, ma non è solo questo, perché per noi avere la certezza dei fondi vuol dire che i dipendenti sono in grado di erogare i servizi alla città e alla cittadinanza. Noi ripetiamo sempre che questo è uno sciopero per la città, non è uno sciopero corporativo, nonostante l'amministrazione, anche in base alle ultime dichiarazioni che abbiamo letto prima di venire qui, stia mettendo proprio questo in discussione. Allora, sentiamole subito, visto che immagino anche Cosentino poi le richiamerebbe. Ascoltiamo cosa anche ai nostri microfoni oggi ha dichiarato il Sindaco rispetto alle modalità di questo sciopero. Io ho dato dimostrazione ieri di quello che voglio fare, voglio tagliare nettamente gli alti salari di questa città, ieri ho ridotto del 70%, lo ripeto, 70% i salari di un consiglio di amministrazione importante di questa città e voglio mantenere o aumentare i salari più bassi, quelli delle persone che guadagnano 1.000-1.200 euro al mese. L'ho fatto, nel farlo ho anche perduto un assessore che non voleva inserire il salario accessorio nel nostro bilancio 2014, l'ho davvero voluto votare con il salario accessorio il 30 aprile 2014 e ho anche chiesto la possibilità di rientrare nella legge. Il Ministero dell'Economia aveva trasmesso il 3 luglio 2008 al Sindaco Gianni Alemanno un documento di circa 200 pagine in cui spiegava che il salario accessorio non collegato a prestazioni accessorie è contro la legge. Neanche i sindacati possono chiedere a un sindaco di agire contro la legge. E allora io ho detto al Governo datemi la possibilità di mantenere il pagamento dei salari accessori in modo che queste persone non vivano in ansia ma diamoci un tempo, un tempo di 90 giorni per rinegoziare il contratto e farlo anche con una mentalità moderna, quella di premiare di più chi ha più passione, più entusiasmo e chi lavora di più. Io penso che il salario accessorio dato uguale a pioggia a tutti sia un concetto del secolo passato. I sindacati in questo momento stanno andando contro l'interesse dei lavoratori l'interesse dei lavoratori è che si chiuda questa vicenda che era stata lasciata aperta da Gianni Alemanno dal 3 luglio 2008 e che io ho trovato aperta. Io la voglio chiudere in 90 giorni. Partiamo da quest'ultima affermazione poi sulla ricostruzione storica della vicenda e sull'impianto del nuovo contratto decentrato arriveremo perché questa credo sia quella che vi abbia fatto arrabbiare un po' di più i sindacati che stanno lavorando contro gli interessi dei lavoratori. Come sentite? Ma a me rispetto a questa dichiarazione del sindaco delude un po' la superficialità come lui affronta certe tematiche e di una superficialità che quasi lo assolve perché è ovvio che di quello che sta dicendo conosce molto poco. Innanzitutto quando afferma il fatto che lui ha tagliato gli alti stipendi io torno a ripetere è bene che il sindaco comincia a parlare delle prime 300 pagine del MEF perché le prime 300 pagine parlano di società controllate di società fuori controllo e parlano degli stipendi dei nominati dalla politica. Allora probabilmente il sindaco... Vediamo un punto sul punto. Su questo Marino dice io ho dato dimostrazione con Acea peraltro con una battaglia durata mesi anche con i soci... Ma parliamo di abbattere stipendi che partono... Prego. Portando a una riduzione del numero e degli monumenti del consiglio di amministrazione e i manager nominati direttamente da questa amministrazione percepiscono mediamente meno rispetto a quelli che li avevano preceduti questo è quello che ho fatto fino ad oggi e quello che intendo fare in futuro. Dov'è che contestate in questa ricostruzione? Guardi noi non contestiamo nulla quello che contestano sono gli stessi ispettori a cui Marino tutte le volte si rivolge avendoli come dice lui invocati lui ma sono gli stessi ispettori che però vorrei che il sindaco finalmente altrimenti la prossima volta ci porteremo la documentazione così sarà più facile farò leggere anche agli ascoltatori dicono che questa amministrazione da loro valutata è in totale perfetta continuità con l'amministrazione che l'ha preceduta tant'è non per nulla dichiarano anche di appalti per carità non messi a bando dichiarano di personale come dire assunto alla politica io vorrei fare una domanda al sindaco un conto è abbattere stipendi da 300-400 mila euro l'anno ma quando si incide su uno stipendio da 1200-1300 euro è qualcosa di molto sanguinoso però ecco questo è il nodo perché il sindaco invece dice di non avere alcuna intenzione di ridurre lo stipendio sta nelle sue carte sta nelle sue carte sta nelle carte che ha presentato l'assessore Nieri sta nelle carte che secondo la loro previsione di rimodulazione del salario i conti che fa l'amministrazione non li facciamo noi dai 72 impegnati non prevede di spendere più di 50 sono i conti che dà l'amministrazione quindi noi di fatto abbiamo un terzo di quel salario che scompare dalla loro previsione di impegno ecco perché diceva prima Medeo un conto è dire poi l'abbiamo messo alla delibera di giunta sappiamo tutti quanti la delibera di giunta è un atto propeteutico al bilancio ma il vero bilancio ancora Roma non lo ha è vero che deve avere a febbraio o a gennaio stiamo a giugno e ancora Roma non ha un bilancio allora la domanda mia è fin quando non ci sarà un bilancio quei soldi non esistono altro tema quando dice che i sindacati fanno male i lavoratori questa forse è la cosa che più fa male ma fa male i lavoratori non i sindacati i sindacati sono terminani dei lavoratori non sono un qualcosa di auto organizzato allora probabilmente il sindaco e questa è la cosa che ci rende distanti anche nell'empatia che lui deve avere perché io ho detto questa città prima va capita una volta capita va rimodernata lui arriva e purtroppo di questa città torna a ripetere conosce Palazzo Senatorio e Colosseo non va oltre questi due limiti c'è una città che si espande c'è una città che cresce nella difficoltà e nella mancanza di servizi tornando ai lavoratori e alla rappresentanza sindacali i lavoratori sono quelli che tutti i giorni con mille difficoltà in efficienza organizzativa perché ora noi cosa faremo domani spiegheremo la città ci arriviamo da quello che accadrà a partire da domani ci arriviamo certamente Formaggi anche a lei su questo aspetto cos'è che contesta della ricostruzione sostanzialmente tutto come diceva già Giancarlo la giunta quindi il governo politico della città vorrei non personalizzare perché se il sindaco parla parla a nome della giunta in quanto la norma prevede che lui sia il capo politico della giunta e il massimo responsabile della città la giunta deve uscire da un equivoco di fondo o riconosce per intero la validità del MEF quindi non solo sul pezzo del comparto e a questo punto deve come diceva Giancarlo iniziare dalla prima pagina Giancarlo faceva riferimento ad appalti dati senza cara fatti senza cara a proroghe di contratti di servizio palesemente difformi dalle normative il MEF nelle sue ispezioni usa termini come danno erariale illegittimo e illegale nelle prime 300 pagine sul resto le gravità le segnala ma le segnala con una come posso dire valenza minore allora se è vero che il MEF dice il vero sul pezzo del comparto lo dice pure l'altro quindi questa è la prima contestazione dopodiché l'altra questione che noi contestiamo è che il sindaco sa benissimo che le sue proposte vanno a toccare le retribuzioni parlare di orario spezzato in una città come Roma dove io dal Torbella Monaca faccio servizio alla stazione Termini se non addirittura all'altra parte vuol dire che a me mi ha squassato la vita ora capisco che il posto di lavoro è quello che è che i servizi vanno erogati però a tutto c'è un limite e chiudo quando abbiamo iniziato la trattativa sulla macrostruttura noi alcune proposte di mezzo sul decentramento gliele abbiamo fatte abbiamo sfidato l'amministrazione a tirare fuori il coraggio e a spostare risorse finanziarie dirigenziali professionali dal centro ai municipi e il sindaco dovrebbe sapere e se il suo cerco magico noi che l'ha detto glielo dovrebbe dire che nel comune di Roma già esistono esempi di apertura di sportelli anagrafici di notte gente che va a lavorare di sabato facendo sportello anagrafico nei mercati questa roba il sindaco marziano la deve conoscere dopodiché come dice Giancarlo una volta che ha capito quello che ha di fronte si mette a lavorare di conseguenza e chiudo il suo capo di cabinetto che probabilmente è uno dei degli appartenenti al cerco magico che lo consiglia non sempre bene deve capire che fare il capo di cabinetto a Roma non è fare il dirigente al senato non ha di fronte questioni legate agli eletti e quindi a sì e no 200-300 dipendenti ha di fronte 24.000 dipendenti ma soprattutto ha di fronte una città come Roma allora c'è un punto che non mi è chiaro ma probabilmente almeno per come sto interpretando le vostre parole va un po' in disaccordo rispetto alla ricostruzione cioè se a vostro giudizio il sindaco avrebbe potuto dar seguito agli appunti del MEF partendo dall'inizio non si capisce perché per chiudere il bilancio abbia dovuto chiedere allo stesso ministero in generale al governo una sorta di liberatoria sul salario accessorio la famosa circolare governativa che ha dato la possibilità di poter scrivere se sbagliare perché è quello che è la posizione ufficiale del Campidoglio per questo vi chiedo perché le due ricostruzioni insomma una delle due non è vera se il sindaco sicuramente era loro se purtroppo non c'è la controparte presente però se il sindaco dice sono stato costretto a chiedere al governo una circolare per poter inserire nella delibera di bilancio il salario accessorio per i dipendenti significa che senza di quello non si poteva andare avanti posso e verrebbe meno la vostra ricostruzione la nostra ricostruzione è di natura oggettiva fatta di documentazioni il sindaco si smentisce da solo perché dice di aver fatto la delibera di giunta sul salario accessorio il 30 aprile la circolare del interministeriale è del 13 maggio quando noi abbiamo contato il sindaco il 13 maggio quindi ben dopo aver fatto la delibera di bilancio che ovviamente non impegnava il sindaco con la delibera a pagare il salario quello che ha impegnato il sindaco perché a maggio gli stimenti non si sarebbero pagati per chiare ho detto in modo chiaro dall'amministrazione quindi sono pronto qui a essere smentito da chiunque era che soltanto dopo quella circolare c'era stata come dire la possibilità della continua erogazione del salario questo diceva l'amministrazione in quanto lì andavano trovate le famose nuove regole ed è quello che contestiamo al sindaco noi contestiamo il fatto che c'è un fatto nuovo il governo è intervenuto e intervino dicendo le regole attuali non sono sufficienti per rifare un contratto adeguato e questo già salva il precedente contratto perché si fa come dire si dà conto contezza che non era quasi possibile in qualche modo rendere armonioso un contratto con regole vecchie rispetto a una capitale d'Italia capitale che ha avuto assunto anche come Roma capitale una legge del 2011 allora qual è il tema il sindaco cosa dice dice un'esattezza i soldi a bilancio di giunta l'ammesso il 30 aprile e fino al 12 di maggio data in cui è stata sottoscritta la circolazione interministrativa lui stava davanti dicendo io non sono in grado di pagarvi perché i miei dirigenti uscito anche sui giornali non vogliono firmare le buste paga io ho proposto di poterli firmare io questo è quello che diceva il sindaco il 13 a mattina quando l'ha incontrato dopo la conferenza stampa i sindacati il sindaco ci ha detto una cosa io sono pronto qui e penso lui sicuramente lo confermerà perché è un galantuomo grazie alla fotografia della manifestazione del 6 maggio con quella grande manifestazione io sono stato in grado di poter andare al governo e avere quella circolare interministeriale come vedete la ricostruzione non c'è però senza la quale non avrebbe potuto licenziare la delibera di giunta ma infatti la delibera di giunta purtroppo è stato l'atto come dire controverso rispetto alla circolare interministeriale perché ha come dire in qualche modo infangato quella circolare perché la circolare diceva potete pagare il salario nelle more delle nuove direttive che arriveranno punto il sindaco cosa ha fatto ha messo due termini vessatori il sindaco ha detto io comunque lo voglio chiudere al di là che arrivino queste norme che il governo ha detto che arriveranno il 31 di luglio però mettiamolo un punto su una cosa siete d'accordo che senza quella circolare la delibera di giunta non poteva essere licenziata dalla giunta senza quella circolare il sindaco poteva continuare a pagare questo possiamo dirlo e quella circolare e quella delibera serviva soltanto come dire a rendere valore perché ogni ente ha dovuto fare una delibera perché quella circolare non va non entra direttamente nell'ente quindi l'ente la deve acquisire deve diventare un atto amministrativo proprio quindi quella delibera nasce perché c'è una circolare a monte non perché la delibera non si poteva fare senza la circolare esattamente il contrario quindi quella delibera purtroppo diventa un atto vessatorio il sindaco dimentiché di dire che quella circolare oltre ad aver messo il 31 luglio la famosa pistola fumante alla tempia dei lavoratori ha messo un'altra cosa un atto più vessatorio ancora che la legge non prevede il conguaglio salvo conguaglio questo vuol dire che il sindaco sa che in ogni momento con quella clausola può richiare ai lavoratori tutti i soldi che oggi sta dando dice di dare ed è una norma quella non prevista in nessuna legge della Repubblica Formaggi c'è qualcosa da aggiungere? brevemente a quello che diceva il mio collega Giancarlo Giancarlo è che quella delibera come diceva Giancarlo poteva in qualche modo essere fatta anche prima perché ora io capisco che può essere complicato spiegare in pochissimo tempo quello che non siamo neanche troppo nelle tecniche però poi se avessimo la possibilità di un confronto con le carte sarebbe ancora meglio ma il MEF per quanto riguarda il contratto dei dipendenti del comune non mette in discussione la legittimità o la legalità come sostiene il sindaco perché deve stare pure attento a quello che dice perdonatemi qualche impressione di Alettale ma oggi è stata una bellissima giornata e risento ancora del clima che c'è da Roma il sindaco deve stare attento a quello che dice quando parla di legalità sta a significare che se lui vuole recuperare legalità quello che c'era prima era illegale e non è così perché quello che il MEF evidenzia semplicemente dice cara amministrazione tu hai messo dei soldi mi spieghi quei soldi che effetto innovativo hanno prodotto sui servizi ora è vero che nel 2008 c'è stata una prima intrusione del MEF ma prima di quella il precedente direttore del personale del comune di Roma aveva elaborato delle contradduzioni che oggi noi ancora attendiamo motivando il perché e il per come si era arrivato e si è con questo assetto contrattuale partendo da carenza di personale e tutto il resto motivando il perché c'era questo sistema di contrattazione decentrata quindi se l'amministrazione fosse stata un'amministrazione vera come lo sono state nel passato le amministrazioni che l'hanno precedentuto probabilmente oggi non staremmo in questa situazione staremmo in un'altra fase dove attraverso un lavorio col governo stavamo ragionando su come recuperare un qualche cosa che ha bisogno di essere ammodernato le regole contrattuali a cui faceva riferimento Giancarlo sono vecchie almeno di una decina d'anni nel frattempo il paese si è evoluto e questo è l'altro nodo perché viene detto i sindacati in realtà i sindacati come rappresentanti dei lavoratori è evidente in realtà mi permetta il sindaco ha parlato anche che sono il vice sindaco ha detto che sono gli stessi lavoratori che sono resti al cambiamento in una sua dichiarazione il tema è quello di rapportare questa parte variabile dello stipendio alla produttività ai risultati ottenuti e si dice da parte del Campidoglio c'è un ostacolo enorme da questo punto di vista perché in realtà molti tra i lavoratori non hanno voglia di farsi valutare e di far commisurare la retribuzione della parte variabile ai risultati raggiunti qual è la risposta questa volta parto da lei Formaggi la risposta è che sono costretto per l'ennesima volta a dire che non è vero i dipendenti del Comune di Roma non sono contrari a una loro valutazione nelle 300 assemblee che abbiamo fatto il fatto che se uno lavora di più o meglio deve essere retribuito in maniera differente è una cosa ormai acclarata il problema vero è che l'organizzazione i servizi che il Comune rende alla cittadinanza impongono dei sistemi contrattuali che della tanto conclamata produttività forse hanno poco a che fare vi faccio due esempi il vigile urbano che sta a Piazza Venezia e dirige il traffico monta e smonta secondo il suo lato di lavoro il collega che subentra fa su per giù lo stesso lavoro ora la produttività che andrebbe applicata a questi due lavoratori qual è? a seconda di come il vigile muove le mani nel decongestionare o nel far fruire il traffico oppure l'assistente sociale che dà servizi di prossimità come deve essere valutata oppure quello che sta dietro lo sportello e rilascio i certificati quindi queste cose le faccio un esempio assenteismo poi lei adesso mi ha portato l'esempio del vigile urbano e chiaramente il vigile urbano in strada fa lo stesso lavoro però se ci spostiamo negli uffici probabilmente c'è un metodo di valutazione come avviene nelle strutture private molto più agevole e oggettivo da poter mettere in campo non sbaglio ha perfettamente ragione il meccanismo che però attualmente già esiste già permetterebbe una valutazione noi abbiamo un sistema di valutazione che risente del contratto collettivo nazionale vecchio di 10 anni e che andrebbe ammodernato però permette al dirigente se il dirigente ha la capacità di fare il dirigente di valutare quello che accade fermo rimanendo che con una carenza d'organico uno batte sempre su questo tasto ma è uno degli elementi fondamentali di circa 8000 unità non sull'organico di diritto ma realmente personale che non è stata più rimpiazzata diventa difficile commisurare un ragionamento ad personam andrebbe fatto un ragionamento sui risultati che dà quella struttura cosa che l'amministrazione però non fa o evita di fare noi questo gliel'abbiamo detto all'amministrazione quando abbiamo ragionato sulla microstruttura non ci tiriamo indietro anche perché CGL e C3W sono tre organizzazioni sindacali confederali che sulla riforma del pubblico impiego probabilmente il sindaco forse non stava in Italia e non se lo ricordo non gliel'hanno detto ne hanno fatto un cavallo di battaglia se non era per CGL CISL e Will quello che attualmente è stato ammodernato nel pubblico impiego non ci sarebbe stato non si può fare racconti in una giornata del genere senza raccontare anche i disagi vissuti dalla città come è normale che accada quando ci sono mobilitazioni di questo tipo il servizio di Armando Fioretti sapeva dello sciopero non sapevo nulla gli auto sono fermi si è avuto di venire con la macchina senza neanche trovare parcheggio perché è tutto bloccato qui c'è sciopero di tutti gli uffici naturalmente non sapevamo niente accidenti è tutto bloccato non si cammina asili nido e uffici capitolini chiusi traffico impazzito per l'assenza dei vigili urbani Roma Archivi è una giornata caotica sui misaggi causati dallo sciopero dei dipendenti del Campidoglio le ripercussioni maggiori sulla viabilità l'assenza dei caschi bianchi ha mandato in tilt il traffico in varie zone della città e soprattutto sulle principali direttrici verso il centro dalla Numentana alla Tiburtina dalla Cassia all'Aurelia dalla Tuscolana alla Trionfale dalla Prenestina alla Laurentina dalla Salaria all'Appia Nuova ma anche sulla Tangenziale Est su via Cristoforo Colombo e sul grande l'accordo anulare causa anche in centro in particolare nella zona della Bocca della Verità punto di partenza del corte oriripendente su Lungotevere inoltre in mattinata è stata chiusa il traffico via del Teatro Marcello troppo traffico troppo da dove viene? di una centocelle sono un attimo a casa di un amico perché ho bisogno di una mano e sono bloccato quanto tempo ci ha messo indicativamente? fino adesso 40 minuti penso che altri 30 ci vorranno per fare un pezzetto qua a Bocca della Verità ci ho messo 40 minuti da circa massimo a qua 40 minuti non solo il traffico però perché a causa dello sciopero i vari uffici capitolini sono rimasti chiusi così chi si è recato all'anagrafe in via Petroseglio nei municipi della capitale non ha potuto sbrigare le proprie pratiche nonostante l'agitazione fosse annunciata da tempo sono stati diversi i romani che non pensavano di trovare gli sportelli chiusi io sul giornale non ho letto niente e questa è una vergogna perché lui non può camminare e non c'erano soldi per il tassi comunque questa è l'Italia speriamo che cambia quei giovani perché ladri abbiamo già avuti tanti ai vecchi se vogliono pure buttafiume che stanno a posto non sapevate lo sciopero no non sapevo nulla devo ritirare un assegno che era stato praticamente protestato sono entrato non c'è nessuno l'unica persona è la signora alla reception che mi ha detto che non è possibile fare nulla pensavo che ci fosse per me un servizio mantenuto al minimo come si fa in genere nei servizi nei paesi civili quindi in gira vuoto insomma no in gira vuoto non la passeggiata insomma chi non era informato insomma in altre circostanze probabilmente qualche carenza nell'informazione pubblica ma in questo caso davvero difficile dirlo sono due settimane che davvero non si parla d'altro nella città e anche nei quotidiani nelle pagine romane dei quotidiani il problema che sollevava però l'ultimo cittadino che abbiamo sentito è il problema del servizio minimo garantito ne abbiamo già parlato quando siete venuti in settimana nell'annunciare nel presentare questo sciopro qual è stato il problema che ha impedito di dare delle fasce di garanzia cosa sentito sono state date tutte le fasce di garanzia per legge tutte le fasce di garanzia che ovviamente la legge 146 una delibera del Roma Capitale quindi stiamo parlando di atti ufficiali di leggi di norme dichiarano dover essere assicurati in questi in questi accadimenti sono stati tutti quanti abbondantemente come dire coperti ma il problema è capire quali sono i servizi minimi essenziali e di tutta evidenza i servizi essenziali sono ridotti a una pattuglia per ogni posto di polizia locale all'apertura delle case comunali ed alla possibilità ovviamente di ricevere nascite e purtroppo morti e punto perché quelli sono i servizi minimi essenziali quindi da questo punto di vista di questo punto di vista noi siamo stati assolutamente attenti che ogni punto di quello che era l'obbligo che i lavoratori dovevano comunque ottemperare fosse ottemperato e quando in qualche modo i lavoratori avessero espresso la volontà perché c'è comunque la volontà di voler partecipare al sciopero sono stati coperti comunque da persone del sindacato che hanno pur perdendo la giornata si sono messi a disposizione per permettere agli altri lavori di andare in manifestazione Dalle valutazioni dei cittadini che abbiamo sentito il messaggio che voi anche questa sera avete cercato di inviare dal nostro punto di vista dal vostro punto di vista non sciopero anche per i cittadini perché mira ad aumentare a migliorare il servizio reso alla città secondo lei Formaggi è passato da quello che abbiamo sentito non del tutto se uno dovesse basare il proprio giudizio su quello che abbiamo sentito probabilmente no però ripeto noi nelle assemblee che abbiamo fatto intervallate da colloqui con l'utenza penso solo a quello che è stato fatto per le scuole la concezione che questo fosse uno sciopero per la città ce l'abbiamo avuta ben presente come fatto maturato all'interno dell'utenza ora lei prima diceva cosa si fa a partire da domani al di là della questione progettuale ora noi dovremmo capitalizzare intanto questa grande partecipazione spiegando ancora di più e probabilmente ancora meglio alla cittadinanza le motivazioni di questa nostra iniziativa ragionando anche su un progetto perché ripeto noi ci facciamo da domani parte dirigente di una cosa che competerebbe normalmente a un'amministrazione non compete al sindacato avanzare una proposta su come si organizza una struttura di un ente locale lo facciamo a volte perché ci troviamo di fronte quasi sempre a una forma di incapacità delle amministrazioni non mi riferisco solo al caso del comune di Roma ma per chi fa attività sindacale questa cosa è abbastanza frequente però la sfida noi adesso la faremo sul merito avanzeremo noi il nostro progetto a partire dalle scuole dalla vigilanza municipale quale sarà la vostra immagino che insomma adesso si aprirà un tavolo di trattative voi con la forza anche di questa mobilitazione il Campidoglio vedremo se cambierà alcune delle valutazioni che ha fatto in queste ultime settimane voi dal punto di vista del merito delle questioni più spinose con quali proposte vi presentate noi ci stiamo lavorando perché come diceva prima Giancarlo quando faceva riferimento a una almeno decina d'anni di costruzioni contrattuali legate all'organizzazione capite bene che non è che con un pomeriggio o con due giorni o tre giorni questa cosa può essere definita tenendo ben presente che l'impegno che ci siamo presi nei confronti dei lavoratori consultati in ben due tornai d'assemblee è che qualsiasi operazione di proposta la faremo solo se avremo comunque il consenso dei lavoratori la partita è talmente delicata che noi il mandato che abbiamo ricevuto è questo si tratta su un progetto condiviso altrimenti come critichiamo il Comune di Roma che ha avanzato un progetto senza la dovuta condivisione degli operatori sarebbe stupido se noi facessimo neppure nemmeno quello che fa il Comune ci stiamo lavorando probabilmente l'idea nostra è quella di farne anche come una specie di convegno pubblico sulle proposte che noi come organizzazioni sindacali faremo per quanto riguarda la riorganizzazione le valutazioni politiche abbiamo sentito quella del sindaco sentiamo ora quella di alcuni esponenti delle opposizioni invece nell'assemblea capitolina anche le istituzioni anche la politica al fianco di questi lavoratori per quale motivo? sicuramente perché la decisione di tagliare il salario accessorio è una vergogna tagliare 200 euro in busta vaca a persone che già ne percepiscono mille è veramente un robinù dal contrario togliere ai poveri per dare ai ricchi quindi noi chiediamo l'amministrazione Marino di ripetere questa decisione di andare con forza al tavolo del MEF andare dal governo Renzi per fare in modo che gli stipendi dipendenti comunali vengano adeguati al costo della vita perché sono bloccati a 10 anni e quindi evitare di metterli in condizione di crisi e difficoltà economica perché in questo momento togliere i soldi a queste persone è veramente uno schiaffo alla buona volontà che tante persone ci mettono perché Roma va avanti grazie a queste persone e 200 euro al mese di salario accessorio perché di questo parliamo e spieghiamolo non è veramente nulla in confronto a tante altre spese che l'amministrazione potrebbe tagliare Le colpe sono di Marino o partono da prima? Allora qui non si tratta di colpe perché il MEF stabilisce che queste decisioni sono state prese dal 2008 ad oggi in continuità amministrativa cosa accade? Che non essendoci mai stati gli adeguamenti e gli stipendi dipendenti pubblici le amministrazioni per tenere le retribuzioni dipendenti al passo con il costo della vita hanno inventato il salario accessorio basterebbe prendere questa parte metterla nell'indenità fissa nello stipendio fisso dei dipendenti e non parleremo più di salario accessorio è un errore di forma e di sostanza la forma perché nel momento in cui ci vuole un dialogo non si può mettere sul tavolo la pistola fumante della data del 31 luglio è una forciatura inutile che non serve a nulla la sostanza è che nel momento in cui si dice che è un problema nazionale bisogna dire al governo bene io adeguo questi parametri però siccome l'adeguamento di questi parametri comporterà che c'è gente che vive con 900 euro al mese non può vivere mi fa la cortesia di fare una battaglia anche dell'adeguamento del contratto collettivo fermo nel 1999 il punto centrale va bene adeguare ma che risposta dà a chi oggi ha pianificato la sua esistenza su 1400 euro al mese e se ne trova solamente con 1000? se si sente solo un signore ne prende le conseguenze e se ne va altrimenti rimane e se rimane e decide di aprire un dialogo non può farlo mettendo come deadline un 31 luglio come una forciatura inutile appone un problema politico questo sciopero che è comunque uno sciopero storico è un evidente ritiro della fiducia a questa conciliatura e questa battuta di Marchini mi porta a farvi un'ulteriore domanda che riporta ancora una volta delle sensazioni che sono emerse nel corso del dibattito di queste ultime settimane ovvero la debolezza politica di Marino anche nei confronti del suo partito ha reso in qualche modo possibile questa mobilitazione ha reso il terreno fertile per questa mobilitazione concordate o no c'è stata anche una spinta politica nella direzione contraria a Marino alla base di questa mobilitazione Cosentino? Guardi voglio ribadire con forza che i temi dei lavoratori rimangono fortunatamente all'interno delle organizzazioni sindacali di chi li rappresenta proprio per essere impermeabili alla politica noi non siamo strumento di nessun tipo di politica e non lo saremo mai perché l'autonomia dell'organizzazione rispetto alle istanze dei lavoratori deve essere un principio fondante ogni qual volta noi andiamo a rappresentare persone che appartengono a tutte le categorie politiche la RSU ad esempio rappresenta i 24 mila dipendenti indifferentemente dalle loro appartenenze sindacali e politiche è nata apposta per questo motivo è ovvio c'è un dato oggettivo noi ieri siamo stati invitati a un'audizione al Consiglio Comunale proprio convocato in forma straordinaria sul bilancio e abbiamo dovuto come dire in qualche modo incassare tra virgolette che i capigruppo del Partito Democratico e di SEL cioè quelli che sostengono la maggioranza il capogruppo che sostiene il sindaco il capogruppo che sostiene l'assessore al personale hanno dichiarato di essere stati di andare oggi quindi essere venuti oggi a manifestare con i dipendenti è ovvio che è imbarazzante forse per qualcuno ma probabilmente le ragioni dei lavoratori per chi vive in mezzo alla gente sono diversi da chi dalla gente invece credo che in questo momento sia molto lontano Formaggio c'è stata anche una regia politica alla mobilitazione per quanto riguarda il movimento sindacale sfido chiunque a trovare in questa vertenza nei documenti e nei volantini che abbiamo fatto un qualsiasi riferimento a pezzi di segmenti politici che possono in qualche modo stare dentro questa vertenza c'è un tempo per tutto questa è una vertenza esclusivamente sindacale e a noi riguarda solo la questione di merito la città i servizi come questi servizi vanno resi e quindi le retribuzioni dei dipendenti dopodiché se c'è qualcun altro che pensa che su questa partita vuole introdurre elementi suoi a noi non solo non siamo indisponibili ma interessa assolutamente zero prendiamo atto come diceva però Giancarlo che ieri la politica tutta ha perso un'occasione per dimostrare l'attaccamento alla città prima ancora che i dipendenti ai dipendenti l'attaccamento se lo dimostri alla città diventa una cosa conseguenziale ed è stato avvilente io faccio attività sindacale da un bel po' di tempo ho iniziato quando c'era la prima repubblica mi sono vissuto tutta questa fase devo dire che il livello che ho visto ieri in consiglio comunale in alcuni momenti mi ha fatto rimpiangere altri consigli comunali di tempi andati non si capiva quello che realmente è in gioco in questo momento e cioè Roma capitale e i suoi servizi e l'assenza del sindaco a nostro giudizio è stata la dimostrazione che probabilmente per il sindaco attuale i dipendenti del comune di Roma non sono una priorità altrimenti sarebbe venuto non avrebbe fatto scrivere la lettera che poi è circolata sul sito senza presenziare al consiglio comunale su un consiglio straordinario convocato per discutere delle questioni del personale grazie grazie ad entrambi ora si aprirà ce lo auguriamo un po' tutti di nuovo il tavolo sul merito della questione l'invito allora ve lo rivolgo tra qualche tempo quando i temi torneranno ad essere d'attualità se possibile se sarà possibile anche con la controparte politica della maggioranza politica nell'amministrazione grazie ad entrambi grazie a Medeo Formaggi funzionale pubblica CCL grazie a Giancarlo Cosentino RSU di Roma a Capitale ci fermiamo pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti